Dobbiaco ormai da alcuni anni fa rima con sci nordico ad altissimi livelli e per il sesto anno la Nordic Arena ospiterà i migliori interpreti della disciplina con una tappa del Tour de Ski. Si tratta dell'evento più atteso dell'intera stagione invernale con gare ad alto tasso di spettacolarità e anche per questo l'organizzazione è davvero complessa perché ogni anno è necessario apportare delle novità che rendano lo show il più attrattivo possibile. Le novità sul campo è che ci siamo ristretti nel campo di partenza, abbiamo cambiato le linee, abbiamo fatto una S che vorrebbe dire la curva su Tirol e questa è stata praticamente l'idea della FIS. Ecco con questo diamo anche molto più spazio agli spettatori che possono essere molto vicini all'atleta e vediamo questa novità, penso che dovrebbe essere il clou. Le gare del Tour de Ski a Dobbiaco si terranno il 7 e l'8 gennaio prossimi. Nella prima giornata due prove classiche ovvero una 10 km maschile e una 5 km femminile. Il giorno dopo altre tante prove ad inseguimento. L'emozionante cortina Dobbiaco di 35 km al maschile e 15 km al femminile. Tutto reso possibile da una struttura alla Nordic Arena ad alto tasso di funzionalità ed efficienza. Io penso che Dobbiaco deve essere molto fiero che 7 anni fa o 6 anni fa si è aperta questa struttura che poi è stata una struttura diciamo molto criticata anche all'inizio. Ma adesso penso che vedono l'importanza di questa struttura perché senza la Nordic Arena non sarebbe stato capace. Praticamente la federazione e la FIS non ti darebbero queste occasioni di fare una turistica o i coppi del mondo. Poi abbiamo la grande fortuna che abbiamo 5 fiste omologati, cioè noi possiamo fare qualsiasi gara. E anche questo è l'unico paese in mondo che ha l'omologazione per tutte le 5 linee, distanze.